Buongiorno genitori e bentrovati, almeno a video. Dopo tante circolari e tanto testo scritto abbiamo pensato di arrivare a voi tramite questo video per potervi raccontare il percorso di questo periodo. Lo faccio io ma lo faccio a nome di tutti i docenti. Ecco il viaggio che abbiamo iniziato ormai da un mese e mezzo. Era appunto la sera del 4 marzo quando la Azzolina ci ha annunciato che la scuola sarebbe rimasta chiusa. All'inizio sembrava che l'esperienza sarebbe durata poco. In realtà è durato moltissimo. Il mondo si è scoperto in una pandemia globale con cifre da capogiro rispetto ai deceduti e gli ammalati. Siamo dentro quindi le nostre case da ormai un mese e mezzo. Questo è il tempo appunto della didattica a distanza. Ci è stato detto che la soluzione per la scuola è questa e vi ricordo che l'anno scolastico è valido e che l'esito di questo anno scolastico ammette e manda i ragazzi all'anno successivo. Però la scuola che abbiamo, la scuola che stiamo vivendo, la didattica a distanza non è affatto la scuola che sogniamo. Non è la scuola per cui noi anche come docenti, come soprattutto i salesiani, hanno dato la vita. La scuola è essenzialmente relazione, incontro, gioco, stare allegri. Il cortile, come diceva Don Bosco, che i ragazzi se li andava a prendere sulle strade della Torina affamata e industrializzata dell'Ottocento. Ecco, noi i ragazzi ce li siamo dovuti andare a prendere dentro il letto. Nel senso che dal 5 marzo siamo dovuti andarli a svegliare nelle loro stanze, nelle loro camerette, tirarli giù dal letto e metterli davanti al video. La nostra preoccupazione, la prima scelta didattica della scuola all'inizio è stata la programmazione. Per questo, sin dall'inizio e per sette settimane, compresa la prossima, abbiamo scritto le schede di programmazione didattica a distanza. In esse, la mappa di ogni classe, sono contenute tutte le indicazioni che servono, gli obiettivi, i contenuti, gli strumenti, i metodi, i materiali, per arrivare di passo in passo verso il percorso finale. Ecco, questo è un lavoro importante che ci è stato riconosciuto e che ci aiuta veramente tanto e che voi vedete pubblicato sul nostro sito. Se lo andate a trovare, ci sono le schede appunto per ogni settimana. Certo, dopo la programmazione è stato importante concentrarci sulla relazione e quindi in qualche modo tornare ai ragazzi e già dal 9 marzo, cioè da lunedì successivo alla sospensione, abbiamo incontrato i ragazzi. Prima su FaceTime, poi abbiamo sviluppato la piattaforma WebEx con Cisco, i partner di Apple, siamo arrivati ad una soluzione. Vediamo i ragazzi tutti insieme. Forse ricorderete la foto di Don Giulio quando a scuola ha davanti a se tutti i ragazzi della sua classe e torna a fare, per esempio, latino e greco. Ecco però, le videochiamate attraverso Cisco WebEx non erano la soluzione, nel senso che non si può pensare che siccome facevamo 5-6 ore in classe, ora potevamo fare 5-6 ore su Cisco. Rendiamoci conto che la didattica digitale stanca di più e che tenere un ragazzo 6 ore davanti a un mono ti avrà un po' una cattiveria e non è detto affatto che dal punto di vista pedagogico e didattico questo sia un risultato efficace. Allora abbiamo iniziato a pensare a fare una divisione interna. La didattica poteva essere sincronica e diacronica, cioè sincronica in presenza, la relazione, incontrarli, spiegare, avere con loro anche un po' di feedback rispetto a quello che succede, rispetto a quello che hanno capito, rispetto ai materiali che gli abbiamo dato, se l'hanno studiato, ma non bastava. Allora abbiamo pensato a una didattica anche diacronica, cioè a un momento separato da quello della presenza, da quello della videopresenza, in cui poter spiegare e quindi siamo passati all'elaborazione, direi massiccia e coinvolgendo praticamente tutti i docenti. Sono state realizzate le video lezioni, che poi sono state caricate sui nostri canali di YouTube. La video lezione è uno strumento più efficace, dove il professore può sviluppare i suoi contenuti producendo un video all'interno del quale può inserire anche delle slide o degli altri materiali multimediali per spiegare efficacemente il contenuto singolo di quella lezione. Ecco, tutte queste video lezioni sono per noi un patrimonio. Ora, l'idea che non incontriamo i ragazzi per sei ore, perché non stiamo davanti al video per sei ore, non vuol dire assolutamente che lavoriamo di meno. In realtà lavoriamo di più, perché appunto preparare un video prende molto più tempo, prende tempo prepararselo, prende tempo il montarlo, prende tempo inserire i materiali multimediali, prende tempo il caricarlo, prende tempo distribuirlo. Quindi capite che riuscire a realizzare due o tre video alla settimana vuol dire molto più lavoro che stare in classe due o tre ore alla settimana, perché in classe una volta che hai finito, hai finito. Scusate l'esempio, ma aiuta a capire un po' di più quello che stiamo vivendo. Ora, videochiamata e video lezioni. Le videochiamate sono state tre ore al giorno, abbiamo lasciato al centro la parte vuota della mattinata in modo che i ragazzi potessero iniziare la mattina a svegliarsi e poi chiuderla nel mezzo utilizzare i materiali che gli abbiamo fornito. Ora, dopo un mese di didattica a distanza così, ci siamo resi conto di essere andati avanti molto con quello che una volta si chiamava il programma. Cioè, i contenuti che abbiamo proposto sono andati oltre quelli che avevamo proposto casomai anche negli anni precedenti. A un certo punto ci siamo accorti che bisognava confrontarsi con i ragazzi per capire se ci stavano seguendo in questo viaggio. Ed è venuta in esame la parte fondamentale della didattica che è la valutazione, come fare la valutazione. Abbiamo quindi anche qua fatto un esercizio di pensiero comune attraverso dei collegi docenti. Siamo passati a riprendere il concetto e l'abbiamo sviluppato personalizzandolo di valutazione formativa e valutazione sommativa. La differenza è che la valutazione formativa esamina il percorso, è un monitoraggio. Guarda il ragazzo attraverso degli indicatori che sono la partecipazione, la presenza, l'interesse, la consegna puntuale, l'interazione fra di loro e la collaborazione con noi. Questi indicatori esprimono un giudizio sintetico ed è quello che avete ricevuto la settimana scorsa, sabato, e che dice qualcosa del vostro ragazzo. Ci dice quello che noi abbiamo capito insieme, perché il giudizio è del consiglio di classe, di quello che ha fatto in questo periodo. È ovviamente una fotografia e non è un voto, è un indicatore, quindi non fa media con gli altri voti, ma intanto dice al ragazzo ti stiamo osservando, stiamo con te, non abbiamo perso di vista quello che stai facendo. Preparati perché adesso arriva la seconda fase, cioè dopo la valutazione formativa passiamo alla valutazione sommativa, cioè ti mettiamo davanti al video che è quello che sta avvenendo in questi giorni e ti chiediamo di dirci cosa è il video. È la video interrogazione, ovviamente nella video interrogazione che è un professore con 4 ragazzi, 4-5 ragazzi, si può sviluppare un po' di più una dinamica di tipo personale. Ecco, abbiamo organizzato praticamente in questo periodo più di 1500 interrogazioni per le medie, più di 2000 per il liceo. Questo lavoro ha voluto dire dare al ragazzo la possibilità di fare una video interrogazione al giorno, ma 7, 8, 9 interrogazioni in 15 giorni. Vuol dire per il docente che per prenderli a gruppi di 4 in un giorno interroga almeno 3-4 ore, oltre alla prima ora che è quella che stiamo vivendo in questo periodo, che vuol dire comunque mettere di nuovo, almeno per un'ora, insieme la classe e parlare con tutti quanti insieme, non far perdere loro la dimensione relazionale di coesione, di gruppo, per potersi confrontare come corpo, come tutto, piuttosto che anche come parte. Ecco, questo è il lavoro che abbiamo fatto, le idee su cui abbiamo molto riflettuto e che abbiamo sviluppato. Abbiamo parlato all'inizio di didattica sincronica e diacronica. La sincronica è quella in video, la diacronica è quella attraverso le video lezioni caricate. Abbiamo parlato ora di valutazione formativa del percorso, il monitoraggio e di valutazione sommativa, le video interrogazioni. Sono le scelte, il percorso, il viaggio che abbiamo fatto in questo periodo. È un viaggio che abbiamo fatto insieme, in cui abbiamo anche attraverso i ritiri ed altri momenti ascoltato molto i vostri ragazzi. Vorremmo, va sicuro, ascoltarli di più. Lo facevamo in presenza, in tutti quei momenti belli della scuola, che sono il cortile, i corridoi, i cambi dell'ora, tutti quei momenti di dialogo personale. Continuiamo a farlo ancora, non l'abbiamo interrotto, attraverso tutte quelle occasioni che l'animazione salesiana nel tempo ha fatto diventare tradizione, come ad esempio il gruppo del Savio alle medie con Donaldo, il gruppo del Grigio al liceo con Don Marco, il gruppo degli universitari che insieme curano la sera e danno una mano in questa animazione. Continuano i gruppi di interesse, la tradizione ormai quasi decennale del nostro laboratorio di Dioniso e l'esperienza di teatro per le medie e per i licei e non disperiamo che alla fine dell'anno riusciremo a proporvi la nostra rappresentazione in qualche modo. Continua l'esperienza della Pios Academy con Gianluca Caetani, avete visto il video che abbiamo caricato su Facebook. Continuano quelle esperienze tradizionali che sono il doposcuola delle medie, in questo periodo è ripartito, grazie proprio alle video di interrogazioni anche di mattina e l'aiuto allo studio per alcuni ragazzi dei licei che seguiamo più da vicino. Ma dentro questa esperienza, dentro questo ripartire anche del servizio civile, c'è l'idea di nuovi laboratori. Tre in particolare interessanti, uno è sul libro, leggere insieme dei libri, un altro è sulle serie tv che sapete in questo periodo vanno per la maggiore e occupano tanto tempo. Il terzo è di scrittura creativa. Insieme ad alcuni docenti abbiamo pensato ad un laboratorio per i ragazzi di licei. Ecco, tutto questo continua come continua l'esperienza dei Buongiorno, gli incontri di Don Gino, ce ne promette uno per questo sabato prossimo. Ed è quel clima che avete respirato e credo anche condiviso molto, degli auguri di Buona Pasqua che richiamo in questo momento. Ecco, io sento di dover ringraziare i salesiani, il direttore, ma anche i docenti, e lo faccio a nome di tutti, per il lavoro che è di più di un lavoro che stanno facendo in questo periodo. Assicuro che la passione educativa, il coraggio, anche in alcuni momenti quell'umanità che ci fa tanto bene è venuta fuori e siamo riusciti a metterla insieme. Ora la condividiamo con voi, l'abbiamo condivisa con i ragazzi. Loro credo siano i nostri migliori testimoni di questo percorso. Ora questo passaggio serve un po' condividerla con voi, non avendo altri mezzi e nella consapevolezza che ne vorremmo di migliori. È chiaro che a questo punto manca ancora un pezzo del nostro viaggio, che ad Itaca non ci siamo ancora arrivati e come diceva il poeta Cavafis, Itaca non è altro che la meta e la meta è appunto il ritorno. Ecco, noi non vediamo proprio l'ora di tornare a scuola, di tornare a riabbracciare i vostri e i nostri ragazzi e di continuare il cammino perché non l'abbiamo fermato. È cambiato, questo periodo è diverso ma nel percorso noi ci siamo, ci siamo stati ed è continuato. E ci piacerebbe alla fine di questo percorso poter dire veramente con tutto il cuore come fecero proprio 75 anni fa i salesiani al più undicesimo, siamo nei giorni della liberazione. Vogliamo ricordarle quelle parole? Loro dissero appunto, e vorremmo farlo anche noi, non abbiamo fatto altro che il nostro dovere. Ecco, vi lascio con la poesia di Cavafis e vi auguro appunto buon viaggio, buon ritorno a scuola e ci vediamo presto. Arrivederci. Itaca ti ha donato già il viaggio, senza di lei mai avresti immaginato di incamminarti, che altro ti aspetti? Se scoprirai che è povera, comunque non resterai deluso, perché saggio ti avrà fatto il cammino, l'esperienza messa nella bisaccia. Avrai capito che Itaca è tornare. Questo è il viaggio e il suo significato.